Il Sant'Agostino è stato un grandissimo progetto, frutto di una collaborazione tra studenti, professori e istituzioni locali e statali. È una bellissima sede, soprattutto è comoda, è veramente bella e soddisfa tutte le nostre esigenze. È moderna, è in sicurezza rispetto alla sede precedente, che comunque era molto umida, non era in sicurezza e non era adatta per una scuola come la nostra. C'è stato tantissimo lavoro, istituzionale, burocratico e soprattutto anche manuale da parte dei moratori e architetti che hanno fatto un grandissimo lavoro e non lo smetteremo mai di ringraziare. È un punto in cui la scuola riparte, deve essere sempre migliorato sicuramente, però comunque è stata una grandissima rivoluzione per tutti noi e per la nostra scuola.